Volete esportare merci dalla Svizzera? Vi serve quindi la dichiarazione doganale di esportazione. Per effettuarla, avete due opzioni. La dichiarazione elettronica gratuita, via EDEC Esportazione, o EDEC Web. Potete effettuare la dichiarazione anche a pagamento, tramite un fornitore di servizi, come ad esempio uno spedizioniere. Verificate in anticipo quali documenti di scorta vi occorrono, ad esempio la fattura commerciale, eventuali prove dell'origine e autorizzazioni, una convalida dell'autorità nazionale o certificati di analisi. Alla dichiarazione elettronica segue la decisione di imposizione elettronica, la cui abbreviazione è IME, che dovete ritirare per via elettronica. La IME serve per attestare che la merce è stata esportata. Quindi non dimenticate la dichiarazione d'esportazione. Così la vostra merce può viaggiare senza problemi. Così la vostra merce è stata esportata.